Nell'aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, lunedì 3 giugno si è tenuto il primo degli appuntamenti della terza edizione di Cenacoli del Libro, alla presenza del rettore Antonio Felice Uricchio. L'evento inaugurale, in collaborazione con Green Books e con la partecipazione della dottoressa Elvira Tarsitano, presidente del Centro d'Eccellenza per la Sostenibilità, ha visto la presentazione del volume L'Intestino in Testa del professore Antonio Moschetta. Ognuno di noi sa qual è il cibo migliore per se stesso, non esiste la dieta migliore per tutti, esiste un approccio sartoriale al cibo e ognuno di noi deve borre molta più attenzione a quelli che sono i segnali che l'intestino ci dà prima, dopo e durante aver assoluto cibo, sia dal punto di vista della motilità che della formazione di aria, quindi del teoresmo, ma anche della capacità di essere in uno stato di salute dal punto di vista del passaggio di una serie di molecole. Questo tubo non deve permettere il passaggio di molecole chimide in giro per il nostro organismo. Infine, perché l'intestino è al centro di tutto? Perché è pieno di batteri, di virus, di funghi e noi spieghiamo qual è la loro rilevanza nel garantire la nostra salute. E' stato presentato anche il libro Au fil de l'ue l'histoire a macchia d'olio di Maria Lisa Clodoveo, Maria Antonietta Colonna, Carmela Ferrandes e Michel Verge, un racconto sull'olio d'oliva e le tradizioni locali. Questo progetto è nato con l'intenzione di contaminare le scienze da quelle agrarie a quelle linguistiche. È la traduzione di un progetto intitolato macchia d'olio in cui gli studenti del corso di francese hanno tradotto qual è l'importanza? Quella di unire il Mediterraneo, oltre che attraverso l'alimento simbolo, l'olio, attraverso i racconti che sono indipendenti dal background culturale ed etnico ma che legano una comunità intera. Grande entusiasmo per l'iniziativa, aggiunta alla sua terza edizione, è stato manifestato dal magnifico rettore. Un percorso quindi particolarmente stimolante che mettiamo a disposizione anche della comunità perché non si tratta di conti limitati al nostro interno ma che hanno una proiezione esterna e una volontà anche forte di aggregazione e di apertura. L'università è il luogo in cui il confronto trova la sua naturale sede e mi fa piacere che siano soprattutto gli studenti ad animali.